Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi dopo tanto tempo finalmente torniamo e questo video doveva andare sulla settimana scorsa ma una volta caricato il video insomma non ero convinta, mi sono resa conto che mancavano delle cose c'erano delle imprecisioni, difetti tecnici insomma, perché è un video che io ho registrato di getto non è un video che ho scritto, io di solito scrivo i video perché mi dà un ordine mentale molto più forte e quindi insomma non posso scrivere video di getto anche perché la mia mente va completamente a raglio anche se mi do una scaletta poi diva, vabbè insomma, quindi alla fine ho deciso di rigirarlo ed eccoci qua questo video nasce con l'esigenza di tirare fuori un po' una sorta di ragionamento dalla questione di J.K. Rowling un po' per capire quali sono le parole e i comportamenti più lesivi legati proprio a questo caso specifico le attenuanti che vengono sempre messi in atto per questo tipo di atteggiamenti insomma, quali sono le problematiche, il succo è quello però anche insomma vedere un po' in prospettiva che cosa ci insegna insomma la parte invece positiva, insomma che cosa ci insegna che cosa ha portato invece di buono con sé questo episodio questo episodio ecco ma direi di partire probabilmente dal recap perché magari qualcuno di voi non è stato sull'internet a dicembre perché non so, ne hanno parlato anche i muri di questo caso questo sarà probabilmente una delle notizie che vi è capitata nel feed su Twitter, su Instagram, su YouTube ne hanno parlati diversi creators facciamo un recap perché non tutti magari possono aver visto questa cosa allora, J.K. Rowling il 19 di dicembre pubblica questo tweet che dice fondamentalmente traducendo alla vecchia vestiti come ti pare, chiamati in qualsiasi modo ti piaccia dormi cioè fai all'amore con qualsiasi adulto consenziente che lo vorrà fare con te vivi la tua vita in pace e sicurezza ma, ma, obbligare le donne a lasciare il lavoro diciamo solo perché hanno detto perché il succo è quello che il sesso è qualcosa di reale e poi i due hashtag I stand with Maya e this is not a drill allora, contestualizziamo un attimo perché non credo che tutti siano preparatissimi in attualità diciamo tra l'altro anche un po' insomma notizie di cronaca inglese questo tweet è dedicato a un caso che è venuto insomma all'attenzione dell'opinione pubblica inglese e poi ripreso da J.K. Rowling sul suo Twitter riguardo una certa Maya for State questa signora, insomma, Maya ha lavorato per diverso tempo come esperta fiscale presso il Center for Global Development e a marzo, una volta che il suo contratto era scaduto non ha visto nessun rinnovo di contratto e quindi ovviamente non è stata confermata sul posto di lavoro Maya in quell'occasione non accetta quello che lei definisce un licenziamento perché sostiene che ha subito una discriminazione sul posto di lavoro a causa delle sue vedute e delle sue opinioni e che quindi lei ha tutto il diritto di essere reintegrata per questo fa causa all'azienda il caso di Maya for State però è stato archiviato dal Tribunale del Lavoro poiché il giudice ha stabilito che le sue opinioni non sono degne di rispetto in una società democratica e che quindi questo rende valide le cause del mancato rinnovo ma perché? ecco, giusto per entrare un po' e contestualizzare anche cos'è successo perché tutto ciò che io vi ho raccontato fino adesso che si rifà un po' al tweet, si rifà un po' alle notizie di cronaca in realtà ha molto a che fare con la figura di Maya e proprio riguarda le sue idee e il suo comportamento durante il lavoro e anche insomma perché è problematico questo tweet innanzitutto il tweet di J.K. Rowling per me è molto problematico perché fa disinformazione dire che il sesso è qualcosa di reale ovviamente di per sé non è qualcosa di attaccabile quantomeno da un punto di vista scientifico ed è inconfruttabile se noi prendiamo esattamente quello che lei ha scritto ma il sesso biologico e la frase proprio solo perché ha detto che il sesso è qualcosa di reale distorce parecchio la percezione della situazione è un aspetto molto marginale di ciò che Maya ha detto e fatto e soprattutto Maya non ha detto solamente che il sesso è qualcosa di reale diciamo che per quanto magari sottolinearlo sia abbastanza offensivo questo ovviamente sta sempre alla sensibilità di ognuno di noi però insomma soprattutto se ti rivolgi a dei colleghi che sono trans e sottolineare che il loro sesso biologico è qualcosa di reale insomma già di per sé non è carino però insomma passiamoci sopra facciamo finta di non essere persone un po' più sensibili diciamo che se lei avesse detto solamente che il sesso è qualcosa di reale di per sé diciamo non ci sarebbero stati i presupposti per un mancato rinnovo del contratto e chiaramente non ci sarebbero stati i presupposti per un giudice per emanare una certa sentenza infatti perché J.K. Rowling fa disinformazione con questo tweet? in primis perché Maya non ha detto solo e unicamente che il sesso è qualcosa di reale lungo il corso del suo periodo lavorativo infatti è stato riportato numerose volte sia all'ufficio del personale, ai colleghi ed è arrivato ovviamente anche ai piani alti e tutti più o meno in ufficio lo sapevano Maya Forstater ha avuto degli atteggiamenti estremamente discriminatori in maniera continuativa nei confronti dei colleghi trans o non binary ha più volte affermato che gli uomini non possono trasformarsi in donne che le donne trans mettono in pericolo le donne cis quando usano i bagni delle donne o altri luoghi specificamente femminili e si è sempre rivolta ai colleghi trans usando il pronome opposto al genere nel quale si identificano e ovviamente l'errore immagino possa capitare ma se viene fatto in maniera diciamo voluta, continua e costante non regge la questione del mi sono sbagliata e non avendone abbastanza sul luogo del lavoro dove ha offeso, marginalizzato e discriminato i colleghi trans e non binari Maya ha fatto molto di più anzi ha portato tutta la sua discussione, il suo modo di vedere le cose, ciò che diceva nella vita reale anzi lei ha portato sulle sue piattaforme social, specialmente su twitter, ciò che faceva già nella vita reale e infatti ha usato le sue piattaforme social per attaccare, discriminare, sottolineare ulteriormente le sue posizioni quindi come dicevo prima, JK fa disinformazione quando dice solo per aver detto che il sesso è qualcosa di reale perché Maya Forstater non ha detto solo che il sesso è qualcosa di reale ha fatto estremamente di più diciamo che anche quella frase che apparentemente il sesso è reale che può apparire innocua, lasciatemelo passare in realtà già di per sé non lo è perché se devi sottolinearlo continuamente a un'altra persona già vuol dire che stai cercando di discriminarla quindi si può anche evitare magari di sottolinearlo indipendentemente da quali siano le tue idee però diciamo che JK sostenendo che questa persona ha detto solo quello che apparentemente ripeto può sembrare un po' innocuo disinforma il suo pubblico perché sta dicendo che quella è la sentenza quello è ciò che è stato detto e questa è l'ennesima occasione in cui JK Rowling forse questa è proprio la più manifesta si dimostra una persona molto poco inclusiva sui social sono anni che mette like, commenta, supporta, condivide e in questo caso proprio scritto quindi in maniera manifesta tweet, articoli eccetera di quelle che vengono definite TERF cosa sono le TERF? è il termine che viene usato da quelle che si considerano femministe tra 800 virgolette mi raccomando che esprimono idee che di per sé il femminismo considera transfobiche inclusa in primis la convinzione che le donne trans non siano donne infatti TERF significa trans exclusionary radical feminists ecco personalmente io non credo assolutamente che queste persone siano definibili femministe perché in primis l'obiettivo del femminismo rimane quello di raggiungere la parità di ottenere la parità e se il femminismo tra i suoi obiettivi annovera quello di eliminare la discriminazione in base al genere e non solo ovviamente quindi quella delle TERF è fondamentalmente una posizione che è contraria proprio al concetto di parità alcuni soggetti infatti hanno preso il caso di Maya e hanno sostenuto il valore dei diritti delle donne rifacendosi proprio al caso di Maya e come i suoi diritti dovessero venire sostenuti indipendentemente da ciò che Maya ha fatto ciò che ha detto e come si è comportata perché questi ricadono nei diritti delle donne nei diritti del lavoro alle donne anche se i suoi comportamenti sono lesivi per la dignità delle altre persone cioè è fondamentalmente contrario ad ogni logica perché questa storia per come è stata posta e come viene sostenuta ci dice che i diritti di una donna che discrimina e offende un'altra donna o comunque un'altra persona che ha una storia diversa dalla sua sono più importanti di quelli delle sue vittime e questo chiaramente è contrario a ogni logica che ha a che fare con la parità e quindi con il femminismo e quindi io mi chiedo perché Joe Rowling sostiene delle posizioni così discriminatorie nei confronti di una minoranza e diffonde informazioni così fuorvianti riguardo al caso in sé e proprio antiscientifiche per ciò che riguarda il tema perché infatti ci dobbiamo sempre ricordare che J.K. Rowling ha una piattaforma che raggiunge tantissime persone ha un pubblico vastissimo che la segue, che la ama, che la adora e insomma bisogna tenere conto che stai parlando a un audience davvero molto ampio è pericoloso diffondere informazioni che distorcono la realtà dei fatti ovvero ciò che è successo sul posto di lavoro ciò che mai ha detto e la sentenza giuridica che ne è conseguita solo e unicamente per sostenere le proprie posizioni poi non credo ce ne sia bisogno su questo canale ma per chi magari non era attento, era in fondo insomma chiariamo anche un altro aspetto le donne trans sono donne hanno una storia peculiare le loro problematiche specifiche e un background proprio esattamente come altre donne hanno le loro problematiche specifiche il loro background e la loro storia e quindi bisogna ascoltare queste donne cercare di capire quali sono le loro istanze le loro difficoltà le loro problematiche e supportarle che già di per sé sono problematiche intrecciate al fatto di appartenere ad una minoranza all'interno di una categoria già di per sé discriminata quindi in pratica le donne trans già di per sé essendo persone trans sono discriminate le donne trans sono maggiormente discriminate in quanto persone trans e in quanto donne e anche questa frase comunque che apparentemente è molto innocua a dire che il sesso è qualcosa di reale insomma è come sottolineare ciò che fa JK sottolineando queste posizioni supportando la causa di Maya insomma secondo JK Rowling che sostiene Maya in questo ambito nascere in un corpo con un sesso biologico che non corrisponde al genere nel quale ti identifichi ti senti e ti appartiene è sbagliato sesso biologico è chiaramente un dato di fatto ma il sesso biologico non per forza determina il genere nel quale le persone si identificano infatti Maya durante il suo lavoro sottolineava verso i colleghi trans come il genere nel quale queste persone si identificavano fosse qualcosa di risibile che il sesso biologico le avrebbe sempre determinate e sbagliando apposta il genere delle persone alle quali si riferiva usando il genere opposto cioè una persona cisgender è una persona che nasce con un sesso biologico che corrisponde al genere nel quale si identifica cioè se nasci femmina e ti senti donna cioè se nasci maschio e ti senti uomo quindi se una persona cisgender si rivolge a una persona transgender sottolineando volutamente come il genere di questa persona non sia il suo genere vero sia comunque sbagliato e anzi chiamandolo con il genere opposto è offensivo rivolgersi alle persone trans adottando un linguaggio offensivo e rendendole ridicole ridendo di loro non significa sicuramente affermare che il sesso è qualcosa di reale non è solo questo anche perché questa affermazione di per sé sembra proprio mancare di un pezzo cioè il pezzo che continua questa affermazione e già di per sé è molto poco credibile che la corte inglese e il posto di lavoro stesso abbiano impedito a Maya di ritornare al lavoro chiaro che è scientificamente inoppugnabile il fatto che il sesso sia qualcosa di reale è un dato di fatto sta nei cromosomi ma questa piccola frase manca di un proseguo che riguarda la nostra identità e il genere e sono anche questi i concetti sostenuti dalla scienza poi pensiamo insomma anche alle persone intersex che presentano entrambi i sessi o possono presentare entrambi i sessi cosa facciamo le escludiamo loro? cioè non vanno bene in questo ragionamento? non esistono? eppure è una certezza biologica è proprio un prodotto della natura stessa questa presenza di entrambi i sessi tutte le persone trans o non binarie sono nati in un corpo che presenta un sesso ma si identificano esattamente nel genere opposto rispetto a quello della nascita ma possono anche non identificarsi in nessun genere oppure in tutti i generi e oltre a fare della disinformazione che è molto problematico questo aspetto della questione oltre alle offese oltre alla discriminazione delle minoranze che vabbè è anche contraddittorio nel comportamento di J.K. Rowling cioè forse non è contraddittorio forse è parte di un piano più ampio che non prevede una vera e propria che non prevede un vero e proprio coinvolgimento personale in queste tematiche perché lei fa continuamente queerbaiting ne avevamo parlato nel vecchio video su J.K. Rowling vi linko lì con tutto quello che io penso di lei purtroppo come io ho cambiato il mio rapporto con lei come autrice e non solo e lei fa continuamente queerbaiting quindi ha seminato nel corso degli anni una serie di indizi che sono volutamente messi lì per attirare il pubblico LGBT+, e quant'altro però non vedono mai una vera e propria messa in atto nelle sue opere penso solo a Fantastic Beasts si era detto che sì, Silente è gay poi abbiamo visto il secondo film e sembra sinceramente una presa in giro dove questo aspetto non è assolutamente presente e sapete perché? perché i film vanno venduti anche in Cina e in Cina la parte LGBT+, non deve essere presente altrimenti bocciano il film altrimenti tagliano il film perché qua alla fine ci sono di mezzo degli interessi economici da un lato nel mondo occidentale dove l'attivismo LGBT ha portato a grandi conquiste e soprattutto dove il pubblico è molto attivo magari sono anche proprio fan di Harry Potter e tuttora seguono questi prodotti ecco, ammiccare a queste cose fare queerbaiting ti porta pubblico dall'altro però vai in parti del mondo dove il cinema si sta espandendo dove il cinema è un grande mercato e lì però ci stai molto attento a fare allusioni perché se no perdi dei soldi ecco, questo atteggiamento molto ambiguo chiaramente volto al profitto è qualcosa che io non stimo e trovo sempre più offensivo e in questo caso secondo me lei è uscita allo scoperto ecco, in questo caso noi almeno abbiamo un'ammissione di quello che pensa effettivamente J.K. Rowling e... è chiaro insomma, almeno lo sappiamo infatti il problema di questo tweet che comunque esce allo scoperto almeno un traguardo è anche quello però questo tweet che sembra apparentemente innocuo tende a sminuire, minare una vera e propria sentenza perché pensateci quante persone nel suo vastissimo pubblico andranno effettivamente a controllare le fonti controllare cosa dice la sentenza controllare gli account di questa maia capiranno che lei ha effettivamente detto molto di più o si è sempre comportato in una maniera molto più discriminatoria molto pochi anche perché questa sentenza in base a ciò che dice J.K. Rowling non avrebbe minimamente senso infatti l'altro problema è che moltissime persone che sicuramente non controlleranno la fonte non andranno a fondo in questa storia crederanno che in fondo ciò che è stato detto e ciò che ha sostenuto Maia non è nemmeno qualcosa di offensivo insomma per i meno informati questa non è assolutamente da vedere in prospettiva come un'offesa e insomma si apre tutto un discorso dietro questo tweet perché insomma anche solo sottolineare questa cosa non è carina non è assolutamente rispettosa però ecco per chi è molto poco informato questo sembrerà un dato di fatto questo è un problema anche perché J.K. Rowling non vuole mettere in piedi una discussione legata a questi temi non è interessata al dialogo al confronto insomma non è interessata a discutere di questioni di genere di transessualità di inclusione e insomma mettere in discussione le sue posizioni infatti J.K. Rowling in questo tweet non fa altro che sminuire un traguardo importantissimo per la magistratura inglese non solo riguardo ai diritti della comunità trans della comunità LGBT ma proprio in generale per i diritti umani infatti J.K. Rowling grazie a questo tweet praticamente cerca di sminuire una grandissima vittoria della giurisprudenza legata ai diritti civili infatti quello che dicevo un po' all'inizio è cerchiamo di vederne l'aspetto positivo di questa storia infatti questo secondo me è l'aspetto positivo la parte che dovrebbe un po' consolarci perché vuol dire che anche dal punto di vista della giurisprudenza che come sempre è più avanti di tutto il resto abbiamo ottenuto qualcosa di molto importante per tutti infatti la corte ha stabilito e leggo la traduzione che per Maya è una componente fondamentale della sua convinzione riferirsi a una persona in base al sesso che considera appropriato anche se viola la loro dignità e o crea un ambiente intimidatorio ostile degradante umiliante o offensivo per questo non potrà essere reintegrata sul posto di lavoro quindi cosa dice la corte inglese? non perché queste siano le sue convinzioni ma per gli effetti che ottiene questa sua convinzione ovvero il creare un ambiente lavorativo discriminatorio e degradante per i suoi colleghi infatti tra le tesi più roboanti di Maya e di una parte dell'opinione pubblica inglese qua un discorso ampio che va avanti da mesi e non voglio aprire se no non finiamo mai più c'è quella convinzione molto radicata che Maya ha sostenuto più volte che le donne trans non dovrebbero usare i bagni riservati alle donne e qua cito non prendete le parole come mie usano come argomento quello secondo cui gli uomini ripeto cito non è una mia opinione cito non dovrebbero essere ammessi negli spazi riservati alle donne è offensivo e folle sotto ogni aspetto in cui la si voglia guardare la questione e la richiesta di questi gruppi che supportano insomma questa legge che insomma vieti alle donne trans di entrare nei bagni delle donne sostiene che le donne trans per accedere nei posti di lavoro insomma nei bagni condivisi devono dichiarare la propria identità di donna trans cioè che è offensivo e folle sotto ogni aspetto in cui la si voglia guardare questa argomentazione in primis perché sottolinea che le donne transgender non sono donne in più perché cancella in primis un diritto delle donne ma in generale di tutte le persone alla privacy e infatti è fondamentalmente illiberale perché costringe le persone che non hanno volontà di fare coming out sul posto di lavoro nei luoghi pubblici immaginatevi le situazioni che possono capitare sottolineando questa differenza tra le donne quelle vere quelle del sesso reale e le donne trans che dovrebbero usare i bagni degli uomini pur non essendo uomini immaginatevi quanto si possa sentire a suo agio al sicuro una donna ad usare un bagno di un uomo ma immaginatevi una donna trans quanto può sentire schizzare alle stelle la propria disforia usando un bagno degli uomini la trovo guarda un'argomentazione totalmente plausibile questa argomentazione fa acqua da tutte le parti è una follia che stanno proponendo in inghilterra come se a in primis le donne trans non fossero donne b le donne hanno diritto alla privacy tutte immaginatevi essere sul posto di lavoro e dover dichiarare qualcosa di così personale è un'invasione della privacy assurda e illegale in più sottolinea che ci siano dei lavoratori di serie A con pieni diritti e lavoratori di serie B che ne hanno meno cioè lavoratori che possono essere discriminati sul posto di lavoro derisi degradati mi pare una follia allora in generale comunque io penso che cambiare le idee delle persone sia qualcosa di estremamente difficile insomma noi non potremo mai cambiare le idee per quanto possiamo provarci trovo sempre utile il dialogo trovo sempre molto utile il confronto poi a un certo punto uno alza le mani perché ci sono persone che non potranno mai cambiare idea non capiranno magari non hanno alcuna esperienza non hanno mai capito certe dinamiche perché sono radicati nelle proprie convinzioni ecco cambiare le idee delle persone è qualcosa di estremamente difficile chiunque discrimini in generale non cambierà idea solo perché è obbligata ripeto può non avere esperienza può non essere educata o istruita può essere totalmente insensibile può essere una persona completamente idiota ok però è difficile cambiare idea non lo farà sicuramente un obbligo però questa sentenza stabilisce che indipendentemente dai quali siano le tue idee questo non ti permette di discriminare gli altri per sostenere le tue idee la tua opinione esiste è una tua radicata convinzione la puoi avere quindi perché è impossibile obbligarti a non averla e non esiste un modo per farti cambiare idea perché se uno non crede nell'identità di genere nella transessualità eccetera insomma trovo che sarà durissima convincerli del contrario anche se questa convinzione è folle perché parte da un presupposto che insomma queste loro convinzioni non potranno mai eliminare anche un dato di fatto cioè che le persone trans esistono sono la prima testimonianza della loro esistenza e di che cos'è l'identità di genere e la transessualità e lottano duramente anzi indipendentemente dalle convinzioni di queste persone che sostengono invece che discriminarle sia qualcosa di legittimo insomma questa sentenza dice qualcosa secondo me di molto importante tu puoi avere le tue idee perché ahimè non te le possiamo cancellare non è un computer ma insomma non puoi creare ambienti ostili discriminatori avvilenti e chiaramente offensivi per le persone che abitano questi ambienti con te e che li condividono con te questo secondo me è la cosa più importante di questa sentenza sinceramente nonostante sia orribile questo sostegno da parte di JK Rowling la storia di Maya sia una storia orribile trovo che invece questo punto sia quello su cui tutti noi ci dovremmo focalizzare come si arginano questi tipi di discriminazione ricordando che la tua opinione finisce sempre in quel limite lì quello dove c'è la libertà e la dignità di un'altra persona le tue opinioni esistono nessuno le può cancellare ma non devono mai ledere alla dignità di un'altra persona cosa che ovviamente Maya ha fatto e in questo caso lasciatemelo dire anche un po' JK Rowling sostenendo queste idee perché insomma è proprietà transitiva allora a me infastidisce moltissimo questa storia perché come già vi raccontavo nell'altro video JK Rowling è stata per me una figura molto importante nella mia crescita e nella mia formazione Harry Potter è la mia serie preferita e rimarrà sempre la mia serie preferita per una serie di motivi che nessuno cancellerà mai però devo dire che questi atteggiamenti dell'autrice mi portano anche a ulteriori considerazioni cioè innanzitutto che le case editrici dovrebbero impedire agli autori di usare Twitter direttamente dategli un PR dategli un ufficio stampa dategli un social media manager come è giusto che sia perché è giusto che si occupino di queste cose i social media manager insomma dategli qualcuno che tolga il telefono dalle mani di questa donna e scriva le cose al posto suo tanti di questi incidenti tante di queste porcate che stanno saltando fuori le avremmo evitate tranquillamente a mio parere e con lei una serie di autori che sono molto problematici online questo ovviamente non è il primo caso è l'ennesimo caso dove ci sono problematiche alcuni autori J.K. Rowling poi in particolar modo si dimostrano estremamente problematici e non dovrebbero stare sui social ecco qualcuno tolga il twitter a J.K. Rowling niente io ci tenevo moltissimo a parlarvi di questo argomento spero di aver toccato tanti temi in maniera abbastanza chiara allora ho voluto registrare il video perché è un video al quale tengo tanto volevo parlare di queste tematiche e volevo soprattutto anche legarle a questioni che hanno a che fare con la letteratura visto che è un po' che non lo facciamo e insomma anche la questione insomma dell'identità di genere eccetera è qualcosa che volevo tirare fuori sul canale mi dispiace che sia io a farlo anzi mi piacerebbe davvero che questi video siano più che altro in collaborazione perché per quanto io vi possa parlare di transessualità sono comunque una donna cisgender che non capirà mai bene tutti gli aspetti e le complicazioni del caso quindi insomma mi piacerebbe discuterne con chi magari fa parte della community e fa parte anche della comunità trans ecco sarebbe sicuramente molto più utile per tutti non solo per me e insomma io spero che sia comunque stato un video chiaro il video che avevo registrato inizialmente non mi convinceva soprattutto perché era confuso poi continuavo a saltare di pali in frasca insomma e invece niente spero che oggi le mie argomentazioni siano state chiare e che insomma vorrei sapere cosa ne pensate voi un po' se ve ne siete accorti se avete seguito il caso e se avete anche degli spunti da tirare fuori da questi casi come far emergere magari i lati positivi quando succedono invece questioni che ci fanno solo incazzare perché questo è esattamente un caso che ci fa incazzare questo è un caso che generalmente è stato affrontato parlando solo degli aspetti negativi e condivido perché bisogna parlare soprattutto degli aspetti negativi però secondo me questa è una sentenza che ci ha dato molto e che insomma io vorrei sostenere anche quel piccolo pezzetto lì che trovo molto importante e niente direi che per oggi è tutto per i prossimi Feminist Friday ci vediamo fra qualche venerdì insomma per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ci sentiamo giù nei commenti ciao